Ma ciao amici, bentornati in questo nuovo video Finalmente siamo tornati con... non è il primo video, ne ho già fatti altri di questo gioco Però diciamo che quelli... non li contiamo, facciamo che è questo il primo Comunque, siamo tornati su survival.io Non potevo dire bentornati in questo nuovo gioco Lasciamo stare l'intro che mette soltanto confusione E andiamo a giocare qualche partita Forza! Solo! Andiamo a fare la solità che prima E comunque, volevo dirmi che il mio record di uccisioni è 21, per chi non lo sapesse E questo gioco è praticamente Play and un Battlegrounds in 2D Ho già fatto una kill nel mentre che lo dicevo E poi hanno un Battlegrounds in 2D Ha preso tanta ispirazione Abbiamo già fatto due uccisioni e 70 rimasti, ragazzi Potrebbe essere una bella partita Comunque i miei record sono 20 uccisioni in solitaria Poi... Tu devi morire X Factor, immagino che sia italiano e mi piace Ci siamo chillati da soli Non... non sapevo neanche che uccidero quel barile, però vabbè Lasciamo stare il primo punto troppo comico SSD Pro Player Non... non dite niente, grazie Notate quanto sono veloci io a cliccare Ehm... no La velocità di click non serve a nulla se si scassa Abbiamo approvato oggi E però devi fare su se... E va bene Non abbiamo capito L'abbiamo capito tutto Di come andrà questo video Comunque ci portiamo una serie E certo che ci portiamo una serie E sarà pure bella luna Credo Muori E muori Tutti morti oggi Non ho capito Cosa è successo Perché sono così scarso io oggi Non lo so proprio E comunque Comunque... Comunque niente cosa dovevo dire Comunque spero tanto che questo gioco vi piaccia Se volete provate Oppure è totalmente gratuito E si gioca da browser Non bisogna scaricare niente Posso andare sul sito Ehm... E certo che però sia antipatico Vabbè Ah... Che cazzo... Non mi rubate le kill Chi è? Sono a zero di vita Me ne sono accorto una Ok Tu aspetta pure va Aspetta Aspetta Tu non mi sparare grazie Se le mine certo Sparami con le mine Ok 3 a 36 Una volta avevo fatto 10 a 38 Stanto ho costituito La partita con 19 kill Poteva essere benissimo La 30 Ma io so buttare Tutte le partite buone Morto Ok Comunque questa Combo la d'oro Ehm... Macchia nera Per favore Puoi sparire da questo posto? Grazie Che dovrei andarmene Ah sì sì Mi gusta Ti pure va Questo qua è un bel Sempre le mine O in qualche L'ho ucciso Non so come Morto anche lui 6 kill E 16 rimasti Raga Bene Veramente bene Per me Comunque Già da 15 in poi Di uccisioni A me va più che bene Anzi Se faccio una 20 Esplodo dentro Non so se è normale Però Non so se è normale Che io esploda dentro Se faccio 20 più Beh Te pare che io Becco un colpo Raga Se curati all'aperto E' morto anche lui 8 kill E 11 rimasti 10 rimasti Scusate Porto pure sfida Va bene Pkp Eh Lo prendo Non lo prendo E' Se Se Spamma granate Io lo prendo Il pkp Che colpo Ma era un aimbot questo? Si era un aimbot Mi pare Non lo so Non vorrei Non vorrei dire cose Che non sono vere Ma intanto io ti spammo 10 uccisioni Cz3 a 1 Ragazzi io quell'arma Non l'ho quasi mai presa Non l'ho quasi mai presa Ho trovata Decisioni Proiettivi che non userò C'è qualcuno sotto C'è qualcuno qua sotto Perché io sento i rumori Dai che è che ricarica di armi qui Vabbè io aspetto Camperato Come un dabbo Perché quello che sono Tutto voluto Giusto Eh no Sono abbastanza Anabelli in questo gioco E comunque non sono Non sono neanche così tanto forte Qua Non sono neanche così tanto forte Come lo credevo E vabbè A questo punto è diventata una buona scelta Questo Ma ho fatto bene Poi lasciare Il moso No Non lo so Ma spero di sì Eh no Perché poi dovrei andare nel testo Ma è ancora dentro o se ne è andato? Ah non se ne è andato Vedi continuo a spammare No 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 Non ci provare neanche Sti qua mi vogliono del portiere No non ci posso credere Vuole timmare con un hacker Perché in questo qua si vede con un hacker E muori E sono ne uno No raga questo qua usa le arco Cioè no questo qui è un hacker Meno male che non mi sta rompendo la cover Se no sarei finito Sarei più finito male Poi vieni vicino Così ti costiti Ti meno male No veramente lui che meno male Perché Ma io lo sapevo Ma io lo sapevo Benissimo Se hai 4 kill Continua la tua vita Scazzone Continua la tua vita E' inutile E' in bot brutto Raga mi da Mi da veramente fastidio Quando Quando vengo ucciso Da degli aimbot E ho fatto una partita decente Perché non è da me fare Perché è buono E però Tenete che andare anche qui Oh ma niente Ma giocare uno contro uno Proprio no eh Ovvio Sempre in due contro uno Magari proprio Ne dici a me Vabbè Chi se ne frega Perché non mi sono ancora abituato? Non lo so Vabbè Che poi in solo duo Fanno spello tutto il tempo Quindi Quindi cosa dovrei dire? Io ci metto sempre un pochino Un bel po' di partite Prima di Di poter Di poter fare cose che Che portano alle vittorie Comunque prima l'ho sottovalutato Dovevo andare a prendere Quella katana E poi E poi E poi Lì lo uccidevo male Io non ho Non ho Munzioni per niente Tu esci da lì dentro Grazie Eh ho sbagliato tutto Eh ho sbagliato tutto quanto Se spammami Spammami Ma è un hacker pure questo o lo stesso di prima per caso? Sempre sia un hacker No non lo è È un umano questo Ho rischiato eh Ho rischiato tanto No questo qui era normalissimo E non perché l'ho ucciso eh Gli hacker riuscito pure Ci riesco a uccidere Sono esplode da sole Senza che io faccio sicuramente Va beh E' un drozzo Dove devo andare Ci stanno delle fight qui Sì vabbè ma Chi devo fightare Dei due scusate Bravo Bravo Adesso fai un ovino con me Adesso Non lo fai più con lui Perché lui è morto Così che faccio Ma devi morire malissimo Rompi i muri per venire Mi uccide Poveri lui Ah vabbè Vabbè Andiamo avanti Non importa come si vince E' quello che pensano gli aimbot No no Aspetta non sono un aimbot Almeno quello Sono semplicemente uno scazzo Che vaga Che vaga Per i fatti propri Ci sono rumori Di porte Automatizzate Che si aprono Double kill E' triple kill E' E' ce l'ho E' ce l'ho It's corona time Yes it's corona time Voi Altra di goal Che poi Io faccio Queste cose Ma io non mi recuto Forte Comunque Perché ho fatto Molto di meglio E manco quello Possono essere Considerate provate Tipo questa Il leader delle uccisioni C'ha nove kill Io ne ho sei Potrei tentare A fare una dieci Che poi Nelle solo Non riesco mai A fare tantissime kill Che capita Una volta Dannazione A me Che non ho pensato Di fare Di fare lo switch Veloce Con queste due armi Brutte Anche io rompo i muri Non me ne prega niente E però non puoi venire Così a caso Anche tu Un po' di umanità Please Ma poi con Sai Grazie Però adesso Fai tate Non a me A lui Ma Ma è un aimbot Pure questo Non credo Però Secondo me No No si lo è Non lo so Come è possibile No Non lo so Se un aimbot Ragazzi Ma poi colpisce il muro Ma è impossibile Che così strano Ragazzi Guardate come si muove La sua arma È un aimbot No guardate soltanto Come si muove La sua arma Ecco Questa di questo grigio qui Vibra Ma vai Perché con il tag EU davanti Cioè E anche Vabbè che Sto qua ha vinto Perché Per questo per esperienza Non ti può battere Manco per il miracolo Ti conto il fatto Che sia un aimbot E Lo spawn più bello Del mondo Cioè Tu sei un aimbot E ti fai battere Da uno Da uno Di quella potenza Ovvero scarsa È impossibile Quindi Avrà vinto la partita Spero Spero di no Perché non te lo meriti Comunque Se Se volete darmi Quali consiglio Io Siate liberi Fuori uno E fuori due Però Però ho perso un sacco di vita Ducky Strike Chi mi sta guardando È Piai nel video Grazie Mori 3 kill E vabbè Fai pure finta Di non avere Eh no Però mi lascia E stare Devi andare Brutti alieni Fatti di bloc rosa Vedete andare Ce n'è uno Fermo Cioè raga Ce n'è uno Fermo Perché non l'attacchi Prima lui Eh no Non era Fermo Che Che sono Quei Quelle Emote Grazie Levatele Per favore A parte il fatto Che Una partita Su due Una partita La dovevo Vincere Per forza Ma l'ultimo Era un aimbot Quindi Quindi niente La vittoria Se ne va A quel paese Lì Un Para Un 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 Anzi Yuki buike Un E Infatti �iz che diretti tanto parco brutto dannato messi mi hai rubato la tv e non c'è provare e ma non c'è provato 4 1 vabbè finchè me ne continuano ad arrivare per me va bene mori pure quei punti che ammazzo galata farai no grazie vabbè c'è un altro un altro non ne hai fatto grazie vabbè vabbè se lei era ucciso mi linea con fa tanta rima che non vorrei che facesse ok io sono messo peggio del mondo proprio grazie proprio per avergli dato un'arma ma un po' e' un po' che ragione grazie tante per avermi pure e me e' in faccia ma ok vabbè volevo vedere una cosa comunque se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo con un prossimo video ciao a tutti